Ciao a tutti diavoletti! Oggi giocheremo per la prima volta a Roblox! Noi non avevamo mai giocato a questo gioco Mai mai E infatti oggi proveremo l'escape room della nonna un po' pazzerella Vai, inizio io! Ok, quindi questo è il nostro personaggio Che però modificheremo nel tempo Sicuramente Eh sì, perché siamo principianti Poi pian piano capiamo e cambiamo anche il personaggio Lo facciamo in modo fashion Ok, basta Ora giochiamo e cerchiamo di uscire da questa casa Allora, ok, questa è la nonna Questo che dice? La nonna ha perso la testa Trova una via d'uscita Ok, di là? No, forse di là Ok Ok Forse non devo toccare questi gattini Oh, no! Quanti ne sono! Infatti, ok Vado avanti Questo è molto difficile Ok, uno Ok, coraggio Due Oh, stavo per cadere Tre Quattro No, annulla Oh No Ho perso Ci riprovo Mi ha distratto quel cosa Oh no Tre Quattro Oh, salto lì Cinque Ok Manca l'ultimo Ci sei quasi Finalmente Cosa dice quello? La nonna sa che stiamo cercando di scappare Quindi trova un'altra via d'uscita Ah Perché questa porta non è buona Dove devo andare? Qui? Oh Forse prima ho visto una ragazza lì Oh Oh Ecco Sono entrato nel tunnel Vado, vado, vado Uh Yeah Ok Queste sono dentiere Vado Ma cosa è successo? Ah, sono caduto Ci sono Ma cosa sta succedendo? Devi saltare prima Infatti, però ci sono troppe persone Ok Salta Aspetta Ci sono troppe persone Andate via Ok, sono andate via Vado Ma Perché non ci riesco? Devi saltare prima È la mia prima volta Anche la mia Ma Salta prima Vado, uno Due Ma C'è anche uno spray Che se ti colpisce Perdi Ma è impossibile questa missione Vedi All'improvviso esce uno spray Hai visto? Ok No Ok Vado, uno Ok Corro, due Corro Tre Hai visto? Non mi devo far colpire dallo spray Ok Tre Aspetta È il momento Vado Ci sono riuscito Ok Lì dentro Cosa c'è qui dentro? Dove devo andare? Questo di qua? Ma è un labirinto Infatti Infatti Di qua Dove devo andare? Ma No Nessuna è riuscita Ok Di qua Diavoletti Dove devo andare? Dove devo andare? Di nuovo? Ok Di qua Dove sto andando di qua? Forse ritorno lì? Oh no Ci sono riuscito Un'altra porta Ecco la nonna Ok Questo è molto difficile Vado No, no Devi saltare su Chupa Chups Lo so che devo saltare su Chupa Chups Però Devo Non devo Colpire Diciamo il quadrato Devo entrare dentro il quadrato Di nuovo, hai visto? Non posso colpire l'erba Uno Hai visto? Ah, hai visto? Ok Cosa devo fare? Ok, qui Ci sono troppe persone Queste persone Mi fanno Giocare male al gioco Ci dovrei essere da solo Ok Perdo sempre Ci vuoi provare tu? Ok Dai Proviamo È la mia prima volta Ok Devi saltare in mezzo Ok Salta Brava Ok Ma Su Chupa Chups Non si può saltare Quindi Lo scopo È andare Al centro del quadrato Ma Perfetto Perfetto Ok Ok bravo No Perfetto Se ci riesci Sei proprio fortunato Dai Come fanno questi Ma anche loro perdono Perché è impossibile È impossibile uscire da questa casa Dai Forse devi fare lentamente Non devi fare veloce Ok Uno Con calma Due Tre Ma Perfetto Ma Perfetto Non ce la faccio più A giocare a questo gioco Due Tre Quattro Cinque Anto Vattene che sei sfortunato Sei Visto No No Ci stavi per riuscire Mi sento male Con calma Ma ero all'ultima Dai Finalmente Una zella Che missione c'è ora? Cosa devi fare? Vado a saltare Forse è facile? Già hai perso Ho fatto il pezzo Ok Adesso tocca a te Uno Ma cosa sto facendo? Ok Uno È l'emozione Tre Cosa? Uno Dai Uno Due Tre Quattro Ok Di qua Quindi Devo evitare questi cosi O ci tagliano i due pezzi Vi ha detto la signora qui Vado Uh Ok Vado Vado Ok Ah Questo è il suo divano preferito Ciao Ok Ora devo andare di qua Vado Vado Forse stiamo per uscire Vado sul biscotto Qui Ok Di là Uh Che bello Ora Che cosa ne fa? Nulla Ok Di là Ora Cosa dobbiamo fare? Devo evitare questi cosi? Sì Ok Uno Due Tre Quattro Cinque Uh Ok Uno Basta Basta Non devo correre Ok Sempre quadrati Sì Uno Però questo è un po' più facile Penso Due Ve lo devo dire Tre Quattro Uno Perdo sempre Uno Ah Vai Uno Uh Ok Uno Ok Uno Ok Uno Due Dai Anto Sta impazzendo il personaggio Ok No Ci provo l'ultima volta io Come soddisfazione No no Aspettate E l'emozione Perché quel livello era troppo difficile E Vince Ci è riuscito A superarlo Ok Ok Due Aspetta Ok Uno Due Tre Uno Due Due Tre Perché sempre al terzo Ok Uno Due Cosa è succedendo Ok Ah Hai tolto lo zoom Sì Uno Due Tre Ma perché stiamo perdendo su questo livello così facile Forse la nostra prima schifo è un tre Quattro Cinque Sei Che bello Cosa c'è qua? Dice cosa stupida Ok Non toccare quella testa Ah Puoi toccarlo Ah Non devi toccare il pavimento rosso Vai Forse questo è facile Sì Vai Ok Ora di là cosa c'è? Non devi toccare tutte queste cose strane È farina Sì Non puoi toccare la farina Vai 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 Forse devi saltare Ok Salta Ok Vai di là Vai di là È facile Che hai detto? Ah Allora Praticamente Una di queste Non cade Devi scegliere quella giusta Perché? Secondo me è questa È caduta Ok Questa? No È caduta anche questa La prima forse Era quella Che bello Ok Qui Al centro Hai indovinato Hai indovinato tutto Sei un genio E ora? Che è successo? Dove siamo? Ma cosa dobbiamo fare? Vai avanti Salto Salto Vai avanti Salto 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 Con calma Gioco io? Hai fatto troppi livelli Gioco io vai A nulla Ok Allora Ok 1 2 3 4 5 Con calma Ok 1 2 3 4 5 Con calma Ok È difficilissimo In effetti Sì È difficile Ok Ok È difficile È molto difficile È molto difficile È difficile Ma Smettila di dirlo Infatti è facile È facile No Non è facile Fallo tu Ok Ok Ci siamo bloccati di nuovo Non perdere Che dovremmo rifarlo Se no Mi metti anche Così Ok Sì bomboloni Devi rifare tutto Ma è difficile Ma forse è la fine Questa Questa è la fine Secondo me Perché c'è tipo Una nonna gigante La vedi? Infatti però È il livello Più difficile Ah Ok Diavoletti L'ultimo tu vai Dai Dai Bravissimo Adesso devi saltare Su quei biscotti Minuscoli Visto Cosa è successo? Cosa è successo? Che è successo? Siamo nella sua bocca Entra Ma cosa sta succedendo? Altri livelli Io pensavo fosse finita qui Ok Proviamo a superarli Prova Vai Ok Ok Vai Forse questo è più facile Visto che c'è stato Quello difficilissimo Ok E ora Adesso Ah È come quello Devi scegliere la porta giusta Questa No Era questa Sei entrato qui 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 Di nuovo qui Bravo È di là adesso Ok E adesso Bravissimo Ora Dobbiamo saltare Su quei cosi rossi Bravo Di nuovo Ancora Vai Corri Corri No Perché quando poi si abbassano Devi Restare in mezzo Bravo Non ci vuole tanto Vai Può essere che sta finendo Ok Vai Corri Bravo Sei intelligentissimo Vai Vai Ma che sta succedendo Non capisco Nulla Lo devi rifare Non c'è un checkpoint lì Ah forse non l'ha cliccato Cliccala Non è un checkpoint È un finto checkpoint Anche questo è un finto checkpoint Ma perché sembra Devi fare tutto Sì Sembra che stiamo rifacendo tutto Ma in realtà no Forse hai fatto Veramente Di nuovo tutto Non devi tornare indietro Vince Devi andare di qua Ma siamo proprio matti Ok Ok Perciò erano checkpoint finti Infatti Perché erano vecchi Ok Bravo Dai Sì Stai uscendo dal suo corpo Ok Bravo Adesso Ma che cos'è Forse devi saltare Lo penso anch'io Bravo Salta 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 Di nuovo Adesso dove ci teletrasporta Che cos'è Siamo usciti Siamo usciti dalla casa della nonna Sì Ci siamo riusciti Non cantare vittoria Forse lì è il cancello Che si è scritto Ah abbiamo finito Visto Vai Ora Metti sulla pista da ballo Abbiamo finito Penso no E' finito tutto Vai lì Su uno di due cose Abbiamo finito tutto Hai visto? Abbiamo finito Giusto? E' finito tutto Tutto per escape room Ci siamo riusciti Abbraccio Ok Finalmente Diavoletti Noi ci vediamo Nel prossimo video E' stato troppo faticoso Troppo Vado via Mi amiamo Noi ci vediamo 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 Grazie.